Cura e igiene del coniglio. Vuoi sapere come prenderti cura della salute e dell'igiene del tuo coniglio? In questo video scopriremo tutti i modi in cui potrai prenderti cura al meglio dell'igiene del tuo compagno peloso per farlo vivere bene e sano. Il coniglio è un animale tendenzialmente pulito. Ti capiterà infatti spesso di vederlo pulirsi da solo e aiutare anche altri conigli nella pulizia. Tuttavia talvolta potrebbe aver bisogno di un po' d'aiuto per mantenersi sano e pulito. Spazzolare il coniglio. I conigli fanno la muta quattro volte l'anno. Per eliminare i peli morti, evitando così che il coniglio li ingerisca, è necessario spazzolarlo quotidianamente nei periodi di muta. Questo accorgimento vale sia per i conigli a pelo corto che per quelli a pelo lungo. È importante però ricordare che le razze di conigli a pelo lungo, come i conigli d'angora, hanno bisogno di essere spazzolati regolarmente, non solo nei periodi di muta. Mentre spazzoli il tuo coniglio delicatamente e senza tirare troppo il pelo, puoi anche dare un'occhiata per escludere l'eventuale presenza di pulci o parassiti sul pelo dell'animale. Se spazzoli regolarmente il coniglio, inoltre, puoi prevenire possibili allergie causate dall'accumulo di peli in casa. Questo è molto importante sia per te che per l'animale. Fare il bagno al coniglio I conigli, come molti piccoli mammifere, in realtà non hanno bisogno di essere lavati come facciamo noi persone, in quanto si mantengono puliti da soli. In effetti fare il bagno a un coniglio può essere un'esperienza molto stressante per lui, che non ama essere immerso neanche parzialmente in acqua. Tuttavia esistono due situazioni in cui può essere necessario fare il bagno al coniglio, quando si sporca con qualcosa che non è consigliato lasciargli leccare, oppure se si sporca di escrementi nel di dietro. In entrambi i casi il bagno dovrebbe comunque essere l'ultima risorsa. Meglio infatti una pulizia più leggera con un panno umido. In questo caso basterà tamponare l'aria interessata con un panno inumidito e asciugare poi accuratamente con della carta assorbente. Se il tuo coniglio è davvero sporco e non hai altra scelta, l'ideale sarebbe bagnare solo la parte che ha bisogno di essere pulita. Per esempio, se è solo il di dietro che ha bisogno di essere lavato, immergi semplicemente quello in una bacinella di acqua tiepida e poi rimuovilo velocemente. Appoggia poi il coniglio sul tuo grembo, applica delicatamente un pochino di shampoo adatto ai conigli sulla parte interessata e infine risciacqua abbondantemente. Poi asciuga delicatamente il coniglio con un asciugamano pulito. Meglio evitare l'asciugacappelli che può spaventare il coniglio e bruciargli la pelle se è troppo caldo. È consigliabile tenere il coniglio lavato in casa durante la notte in modo che non sia esposto a temperature notturne e fredde all'esterno con il rischio di ipotermia. Tagliare le unghie al coniglio. I conigli hanno 5 unghie sulle zampe anteriori e 4 su quelle posteriori che crescono piuttosto rapidamente. Di solito non si consumano da sole quindi dovrai tagliarle o limarle frequentemente. Per tagliare le unghie al coniglio l'ideale sarebbe acquistare un tronchesino per conigli o cani. Inoltre è necessario tener fermo il coniglio per esempio avvolgendolo in un asciugamano o un panno sul tuo grembo. A quel punto inizi a tagliare le unghie troncando solo la punta trasparente dell'unghia. A circa 3 mm dal bordo infatti sono presenti vasi sanguini e terminazioni nervose che se vengono tagliate possono far male e causare abbondante sanguinamento. In certi casi tuttavia non è facile tagliare le unghie a un coniglio. L'animale infatti potrebbe risultare irrequieto e persino rischiare di ferire se stesso o te nella foga di scappare. Pertanto se non hai alcuna esperienza nel farlo è meglio chiedere un aiuto professionale a un veterinario. Pulire le orecchie al coniglio. Sebbene i conigli si puliscano regolarmente le orecchie da soli dovresti comunque controllarle spesso per assicurarti che non ci siano problemi o accumulo di cerume. Se esamini regolarmente le orecchie del tuo coniglio potrai individuare una serie di problemi come gli acari dell'orecchio. È importante che non ci siano perdite dalle orecchie, cerume eccessivo o residui marroni poiché questi sono sintomi che indicano problemi di salute e necessitano di una visita dal veterinario. Se sei sicuro che le orecchie del tuo coniglio siano solo un po' sporche puoi pulirne il padiglione con una garza o un cotton fioc inumiditi in acqua tiepida. Con questi rimuovi delicatamente lo sporco dall'orecchio esterno e asciuga poi leggermente con un'altra garza pulita, non entrare nell'orecchio interno e poi procedi in questo modo per entrambe le orecchie. Pulire gli occhi al coniglio. È necessario pulire gli occhi al tuo coniglio solo se non riesci ad aprirli bene. La causa più comune di questo problema è l'accumulo di sostanze secrete dall'occhio stesso. In questo caso dovrai prendere una garza sterile inumidita con acqua tiepida e mettere il coniglio sulle tue ginocchia. Posiziona delicatamente la garza sugli occhi del coniglio senza esercitare alcuna pressione. Dopo alcuni secondi strofina delicatamente l'occhio uno o due volte facendo attenzione a non mettere troppa pressione. Se dopo alcuni tentativi non riesci a pulire l'occhio ti consigliamo di portare il coniglio dal veterinario. Pulire le zampe al coniglio. Se le zampe del tuo coniglio sono molto sporche o infangate puoi semplicemente usare un panno umido per pulirle. Prendi in braccio il coniglio e tienilo fermo poi rimuove delicatamente lo sporco dalle zampe con il panno e dopo con un altro panno asciutto asciugale bene. Cura dei denti del coniglio. L'usura dei denti in continua crescita del coniglio è importante per la sua salute. Ci sono diverse opzioni di rami naturali tra cui scegliere in commercio da dare al coniglio da rosicchiare per consumare correttamente i denti. Inoltre a tal fine dovresti sempre offrire grandi quantità di fieno al tuo coniglio per aiutarlo a consumare e tenere puliti i denti. Igiene dello spazio del coniglio. I conili trascorrono gran parte del loro tempo all'interno di un recinto o di uno spazio allestito appositamente per loro. Dato che si tratta di animali naturalmente molto puliti anche la pulizia del suo ambiente almeno una volta alla settimana è essenziale per garantire una corretta igiene del coniglio. La lettiera così come le ciotole di cibo e acqua devono essere pulite e cambiate quotidianamente. Salute del coniglio. Sebbene i conili siano tendenzialmente animali sani possono talvolta ammalarsi. Oltre a garantire che il loro spazio sia pulito e che abbiano una dieta nutriente ed equilibrata dovrai verificare regolarmente che il tuo coniglio sia sano. Se dovessi notare qualsiasi cambiamento nelle sue abitudini o nel suo comportamento come perdita di appetito, pelo opaco o brutto, mancanza di pulizia da parte del coniglio e tendenza a dormire troppo, è consigliabile portarlo subito dal veterinario per escludere o curare qualsiasi tipo di problema. E tu? Sapevi già come prenderti cura dell'igiene del tuo coniglio? Faccelo sapere nei commenti e se ti è piaciuto il video clicca su mi piace, condividilo e iscriviti al nostro canale per non perderti altri video sui nostri amici pelosi. A presto!